A questo punto facciamo la cosiddetta cerimonia della campanella che è meglio nota a Palazzo Figi per cui credo a nome di tutto il Consiglio Tribunale di lasciare il testimone e faccio tante auguri per il nome di tutti e a Rosetta Furbi per un buon lavoro di garanzia per il Consiglio Tribunale.